Cari amici, voglio fare un grandissimo augurio per il gran galà teatrale che farete a Castelbuono e in un momento così difficile per tutti noi fare invece teatro e resistere e continuare a creare e darsi una mano attraverso le storie, attraverso l'arte è fondamentale e quindi il lavoro che fate è importantissimo e molto bello e ne approfitto per salutare gli amici dell'associazione teatrale i frastornati e magari quando riuscirò a tornare da quelle parti a Castelbuono non mancherò di venire a fare un saluto quindi veramente un grandissimo in bocca al lupo, buon teatro e buon divertimento